Ciao a tutti dal gruppo folcloristico Tamponearo-Lagro di Comarolo, provincia di Trento Noi siamo Claudia, Lido, Anita, Attilio e Thomas e diamo un saluto caloroso a tutti i visitatori della fiera Agri e Slow Food Travel Expo e vi auguriamo una buona giornata del turismo con la nostra musica del Trentino e suoniamo per voi appunto l'Inno al Trentino in Moldova e vi auguriamo un saluto con la nostra musica del Trentino e vi auguriamo una buona giornata e vi auguriamo un saluto 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.